buongiorno a tutti buongiorno lunedì lunedì 20 novembre buona settimana a tutti buon inizio di settimana a proposito come va Lorenzo Masieri ciao ciao Fabio e ciao a tutti gli ascoltatori buongiorno anzi a tutti gli ascoltatori di Cristal Radio tutto bene dai classiche robe da lunedì mattina quindi ebbene si iniziamo una nuova settimana qui su Cristal Radio con Good Morning Milano il vostro show il morning show che vi sveglia la mattina che vi dà la sveglia che vi dà la carica per iniziare al meglio la giornata abbiamo anche delle coordinate a cui potete scriverci 3317853555 per il buongiorno foto quello che volete albe tramonti oggi poi è lunedì quindi potete raccontarci il weekend cosa avete fatto nel weekend dove siete andati dai dici subito come andate in una polentoteca tutto molto bene grazie ho mangiato come un animale è tutto bene sono uscito che sono uscito che erano le 5 meno un quarto scusa sono uscito che erano le 5 meno un quarto cioè dal pranzo dalle due perché secondo turno secondo turno sono uscito alle 5 meno un quarto da lì bene col buio e sei ancora vivo però insomma immagino sempre mi immagino la strada pieno satollo che scendi ma non è così non ci sono tutti questi tornanti però pesante ricordiamo a Bellagio tutto questo avviene sì più o meno più o meno prima o poi chiameremo la polentoteca così per fargli un'intervista a questo punto che insomma la nominiamo sempre diciamo sai che però non abbiamo detto il nome perché perché comunque un pranzetto lo vorremmo scroccare Marco Mengoni iniziamo l'inti questa giornata la facciamo cercando di svegliarvi pian pianino insieme appunto a Franco 126 questo era Marco Mengoni con un'altra storia vogliamo iniziare così pian pianino molto Sanremo no? molto Sanremo no 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 ok molto Sanremo eh però fuori tempo questo anno vi ho visto che Mengoni presenterà no? si quanto sembra si sarà al fianco di Amadeus quindi ci sarà la rotazione anche dei valletti? ma non lo so bisogna capire adesso li chiamano co conduttori bisogna vedere che ruolo gli danno perché poi ogni volta si inventano cose nuove Gerry Scotti ha fatto quel video in cui sostanzialmente hanno detto che sarà presente a Sanremo Gerry, il mitico Gerry è un nostro collega, lui nasce nella radio quindi insomma io spero che ci ritorni anche a Cristal Radio proprio con noi una mattina signora, benvenuti in Milano con Fabio Ranfi Lorenzo Maseri e Gerry Scotti qual è la frase? non ha una frase buongiorno signora io lo dico buongiorno signora ma non come lo dice bene lui non so l'accendiamo? a parte quello aiuto da casa? non ha l'allegria è allegro come ragazza allegria ragazzo ma sono ragazze sono sempre ragazze qualcosa di nuovo cosa dico di giornale? iniziamo la rassegna stampa andando un po' indietro di qualche giorno poi andremo sulle notizie più attuali perché venerdì noi come sapete nel weekend non siamo in onda però venerdì mattina non è che fossero poi uscite così tante cose come quelle uscite durante il weekend sulla vicenda consiglio comunale di giovedì che già un po' la consigliera Cucchiara che è stata al telefono con noi ci aveva anticipato cosa è successo? a parte appunto la notizia che avevamo dato di una manifestazione interna al consiglio pro palestina oltre a questo è successo andatelo per favore a rivedere anche col per due come faccio io perché è un consiglio comunale veramente straordinario perché sala volano scintille volano scintille tra sala e il consiglio comunale su due cose Fabio la prima sugli ambrogini d'oro che il sindaco ha definito sostanzialmente che consiglia una gestione clientelare degli ambrogini d'oro e lo stesso sindaco quindi non è contento di come venga gestita esatto dice proprio gestione clientelare clientelare quindi proprio fa pensare ad altro in realtà e poi sulla mozione di sfiducia presentata in riferimento alla sua assessora l'assessora Elena Grandi di assessora al verde del comune di Milano e sostanzialmente queste parole non hanno fatto piacere all'intero consiglio tanto che oltre che chiaramente dalla minoranza anche dalla maggioranza arrivano cioè Carlo Munguzzi quando prende parola dice esplicitamente che deve chiedere scusa a tutti i consiglieri il sindaco Sala e poi se non sbaglio è lui a dire ma voi pensate veramente che possiamo andare avanti tre anni così ed è una domanda che mi piacerebbe fargli che mi piacerebbe fargli ufficio stampa di Carlo Munguzzi se ci sta ascoltando in questo momento guarda aspetta facciamo così facciamo così guarda aspetta aspetta ho un'idea ho un'idea lo fai veramente te lo dico lo fai in diretta in questo momento guardatelo cosa fai? stai mandando un audio messaggio all'ufficio stampa di Carlo Munguzzi no no aspetta devo andare a ricontrollare effettivamente chiedi chiedi cosa che vuoi no devo andare a ricontrollare effettivamente sarà lui se lo trovo lo faccio se lo trovo va bene va bene allora cancello il messaggio va bene adesso allora andiamo con luce verde subito scusate guarantee black eyepiece 7.20 della mattina del lunedì mattina di una settimana che inizia inizia freschetta questa mattina insomma c'era abbastanza freschino finirà peggio finirà peggio dicono le previsioni si dicono così però noi si va avanti e parliamo ancora degli amborgini d'oro parliamo di zini perché insomma c'è tutta una diatriba dietro tutto nato un po' dall'amborgino che verrà dato a Pucci in realtà molto probabilmente come dire era un po' che si buttava la polvere sotto il tappeto e stavolta il tappeto non bastava sì probabilmente è stata sai quella somma di cose che ti portano in escandescenza sì sì sicuro perché veramente vi invito ad andare a recuperare il consiglio comunale su youtube prima stavamo parlando fuori onda sostanzialmente sala quando prende la parola difende a spada tratta l'assessore a grandi dicendo che lavora e magari qualcosina ha sbagliato ma lavora e nessun altro di quelli lì presenti sarebbe stato in grado di fare meglio io penso di no ho detto io so io chi cazzo è un po' così quasi il concetto è un po' quello sono arrivati degli insulti si presuppone perché non si vede dal video e non si sente da parte degli osp non degli osp del pubblico del pubblico del consiglio comunale come ho scoperto un paio di giorni fa che appunto si può andare lì cosa più bella che devi scoprire adesso ad assistere al consiglio comunale evidentemente da quelle da quelle panche sicuramente saranno panche sono arrivati degli insulti dei gesti sembrerebbe perché Sara dice guarda che vedo fino a lì non si può fare quello che si vuole a Milano dovrebbe chiedere scusa al sindaco eccetera eccetera poi si gira verso la Buscemi che è la presidente del consiglio comunale chiede la sospensione dell'aula quindi veramente un clima molto pesante molto disteso mi permetto di dire ho provato un po' di cringe quello che i giovani non come me dicono cringe perché se vedete la situazione davvero è cioè ti mette in imbarazzo cringe è sostanzialmente sentirsi in imbarazzo per qualcun altro ecco quella situazione lì mi ha messo abbastanza in imbarazzo sugli ambrogini anche l'ex sindaco Albertini si è un po' distaccato anzi in un certo senso ha messo le proprie colpe ha fatto un mea culpa ha fatto un mea culpa perché ha detto ho fatto male a dare la decisione finale in mano al consiglio questo l'ho detto fondamentalmente che poi sono le candidature del consiglio e però anche la decisione finale viene fatta dai capi gruppo cioè dalla commissione che però è preseduta no preseduta cioè composta scusate dai capi gruppo del consiglio comunale quindi diciamo ogni gruppo in consiglio ha il suo rappresentante che vale uno uno vale uno in quel caso e quindi se di base c'è una cosa se qualcuno propone qualcun altro ha detto sì c'è anche di dire questo e non basta che dichiaro di sì solo quelli che propongono in più il sindaco ha una sorta di veto che può comunque esprimere volendo ma questa volta non l'ha espresso quindi forse non era così contrario secondo me quel diritto di veto è un po' come quello che ha il presidente della repubblica nei confronti dei ministri ossia proprio estremarazio e mi viene da dire adesso non viene tutto ma forse non era così estremarazio il veto su Pucci col senno di poi effettivamente non ci si aspettava tutto questo gran bailame ecco ma ripeto secondo me non è il Pucci il tema è molto probabilmente una gestione che il sindaco ha definito clientelare che altri potrebbero definire grottesca oppure opaca ma anche secondo me un po' così sui generis che viene fatta sui Lamborghini d'oro da un po' di anni ecco non è solo quest'anno Elodie affari spenti 7.32 minuti ben ritornati qui su Crystal Radio a Good Morning Milano ricordiamo 331 7853555 il numero di whatsapp a cui potete scriverci e fare come ha fatto ad esempio Alberto buongiorno amici del mattino di Crystal Radio e buona settimana inizio settimana però difficile per chi usa i mezzi pubblici perché nuovo cedimento stradale questa volta in 5 giornate così ci scrive Alberto siamo andati a controllare appunto la notizia ad approfondirla ed effettivamente per chi ha l'applicazione di ATM infatti è già arrivata la notifica tram 12 e 27 cambiamenti a servizio dopo il cedimento di un tombino qualcuno di voi segue la formula 1? no io no è il tombino di Las Vegas lo sapete? Sainz ha dovuto lasciare le prove libere perché è saltato un tombino durante le sue prove libere del giovedì se non sbaglio e quindi diciamo che 5 giornate it's new Las Vegas oppure Las Vegas the new 5 giornate visto che mi fa un po' ridere il fatto che abbia ceduto un tombino quindi cedimento stradale ridotto per fortuna e tutto in una piazza che stanno facendo i lavori praticamente da un anno cioè continuano a fare lavori evidentemente qualcosa è successo e quindi cedimento del tombino quindi tram 12 e 27 ho detto giusto? si 12 e 27 che cambiano e vengono sostituiti dal B27 che è un autobus che fa il pezzo tra Piazza Fontana e Piazza Emilia e poi anche lungo tutta la linea appunto del tram 27 quindi il 27 è completamente sostituito dal B27 invece il 12 solo in un pezzo ma ci sono anche pulendo potete prendere l'A66 dal Via Cadore fino a Molise dove poi riparte appunto il 12 ma la vera domanda è da quando tu segui la Formula 1? allora devo dire che ho seguito un attimino una cosa solo perché Chris Hornet che è il general manager di Red Bull aveva fatto un'uscita che non avevo ben capito perché tu mi dici perché segui Chris Hornet? perché è il marito di Gary Hallowell quella delle Spice Girls non lo so Gary delle Spice Girls Gary comunque lei ma ieri infatti per capire meglio la notizia invece ho fatto un bel una bella telefonata a Chiara Scacabarozzi nostra ex collaboratrice che ora lavora sul sito di Sky Sport e mi ha spiegato tutto perfettamente quindi grazie mille e un saluto a Chiara Scacabarozzi appunto di Sky Sport che è nostra ex collaboratrice mia grande amica e quindi sono ben contento che mi abbia spiegato tutta questa situazione mi fa ridere di dare un tombino che salta a Las Vegas e ti spacca la macchina tra parentesi hanno anche questa cosa dopo gliela chiedo hanno dato anche le penalità a Sainz perché ha dovuto cambiare i pezzi delle auto ha capito quello che dico è come se se vai per strada fai l'incidente tu fai la causa al comune fai la causa a Las Vegas comunque poi alla fine tutti i giovedì che hanno sputato su questo gran premio farà schifo c'era Vestappen che ha detto domenica Vestappen ha vinto tutti felici la domenica ieri si tutti contenti in realtà hanno capito se hanno fatto sabato notte hanno fatto l'orario stranissimo hanno finito a notte fonda per le cose del fuso orario per avere qui la diretta a un orario decente il fatto è che giovedì tutti i contrari a questo gran premio finita la gara tutti felici pure chi ha perso tutti contenti la pista bellissima ricordo un po' il mondiale il mondiale in Qatar tutti ah no ma il Qatar i diritti eccetera poi fatto la finale che era stata la partita più bella di tutti i tempi molto probabilmente si sono dimenticate di tutto in un weekend hanno pulito tutto quello che avevano detto i morti mille morti quanti erano tanti il mondiale non a Las Vegas andiamo con un po' di musica andiamo a Berlino ma una Berlino collegata con Napolet perché sono New Genea con Tiena Te e ogni tanto anche i software fa le sue biz ben ritrovati erano belli i New Genea ti vi piacevano anche a me li stavo ascoltando con molto piacere invece ci ritroviamo qua in diretta così anticipata vabbè però ci siamo fatti trovare prontissime come no subito prontissime 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 vabbè i blocchi di partenza andiamo avanti con la segna stampa tanto tu ripondo tu ripondo perché sì esatto abbiamo parlato appunto dei disagi questa mattina per il trasporto pubblico ringrazio Giuseppina Rosco che mi ha segnalato appunto riguardo a questo che stamattina 20 novembre alle ore 9.30 a Palazzo Pirelli ci sarà un incontro promosso dal PD appunto che si chiama tutti a bordo il trasporto pubblico locale in Lombardia quali criticità e quali prospettive si tratta comunque della solita conferenza immagino in cui si fa il punto sulla situazione appunto del trasporto pubblico 9.30 saluti di benvenuto più a Francesco Maiorino poi l'introduzione di Simone Negri consigliere regionale PD non so se ha una carica però comunque molto attento dal punto di vista del trasporto pubblico e poi interverranno varie persone dalle 10 in poi tra cui l'assessore Accense appunto assessore ai trasporti del comune di Milano e intanto noi la buttiamo lì poi bisogna capire questo gergo adesso uso questo gergo giovanile è possibile che lunedì 27 novembre ci sia un altro sciopero che coinvolgerà i dipendenti di ATM che come ricordiamo non hanno potuto partecipare a quello di venerdì scorso perché era passato troppo poco tempo dall'ultimo sciopero che ha coinvolto ATM non so se mi sono spiegato sì ecco è possibile che appunto lunedì ci sarà questa questa agitazione staremo a vedere bisogna capire al momento è ancora tutto in forse venerdì 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 lunedì detto lunedì 27 ma venerdì non c'è un altro sciopero anche io ero rimasto venerdì però penso che sia tutto in evoluzione ah ok infatti non diciamo nulla non potremmo ci spiga da soli questa è la pagina trasporto pubblico quindi incontro di questa mattina a Palazzo Pirelli è possibile Simone Negri ricordiamo ex sindaco di Cesano Boscone ok e non so se ha qualche carica consigliere oltre a quello nella commissione mobilità all'interno del PD è uno che è attento al tema della mobilità adesso chiuso a questo parliamo invece parliamo sempre di strade ma dal punto di vista della sicurezza perché ricordiamo che ieri è stata la giornata mondiale delle vittime sulla strada l'assessora Censi aveva annunciato tra l'altro una manifestazione sulla quale adesso non ho trovato niente sulla quale adesso non ho trovato niente ma adesso cercheremo di capire come è andata se effettivamente c'è stato o meno purtroppo però dobbiamo anche segnalare come sapete che sabato sabato in Viale Papignano una donna di 50 anni è stata investita sulle strisce pedonali e si trova ancora in coma sembrerebbe in condizioni molto critiche che non ci sono particolari aggiornamenti tranne il fatto che non è ancora chiara la dinamica quindi non è scontato che la macchina sia passata col rosso che lei sia passata col rosso non si sa ancora niente da quello che si apprende sui giornali quello che si apprende però che è appunto l'ennesima vittima della strada di strade che risultano sempre più pericolose a prescindere appunto poi dall'utilizzo cioè proprio la strada in serma diventa difficile da da vivere vorrebbe da dire insomma se si ferma il semaforo rischia di essere da sotto ma anche per le macchine per tutti sembrerebbe che ormai non ce n'è più per nessuno non si salva più nessuno ovviamente poi quando le disgrazie avvengono a qualcuno che è in bicicletta o peggio ancora a piedi ovviamente è molto più pericoloso e i danni possono essere davvero davvero irreversibili oggi è la giornata giusto dicevi? no ieri scusa ieri giornata mondiale vittima della strada mentre l'altro ieri purtroppo questo fatto in Viale Papignano veramente non trovo niente sul fatto della sua manifestazione che aveva annunciato la Censi eccetera capiremo capiremo sarà stata lì un'idea adesso magari la devono un attimo rivalutare e gestire meglio sottolineiamo invece che ieri altra piccola manifestazione o comunque mobilitazione in Piazza Duomo con alcune centinaia di persone che si sono radunate in una fiaccolata spontanea praticamente per ricordare Giulia Cecchettin che sapete benissimo chi è in questi giorni sì sì ieri sera appunto è stata organizzata nell'arco di pochissime ore un appello raccolto da molti da molte che appunto ieri sera in Piazza del Duomo hanno fatto una veglia delle maggiori città se non ho capito anche a Brescia sì sì ovunque è stata fatta e a Milano insomma ha risposto ovviamente subito a questo appello andiamo avanti con la musica adesso cerchiamo un attimino di arrivare Sani e Salvi alle 8 perché poi abbiamo più tardi anzi Cepoletti fra poco quindi dobbiamo arrivare belli sgombri per capire bene come va la settimana lavorativa e quali sono le buone notizie del lavoro ma prima un classico della musica della mia epoca mi sa che questa roba qui tu non l'hai neanche mai sentita lui si chiama Hamsey Hammer sai chi è? no Hamsey Hammer Tulo Jade Tulo Jade to Quay hey hey 7,50 minuti di nuovo in diretta fra poco Filippo Poletti qualche notizia così veloce abbiamo parlato appunto di quello che è successo giovedì in consiglio comunale ma giovedì appunto sempre in consiglio comunale non bagare eccetera ma si è anche approvato un ordine del giorno proposto da Valerio Pedroni che è stato nostro ospite consigliere del PD che chiede di iniziare un percorso affinché per le prossime amministrative alcuni seggi distribuiti su nove municipi di Milano siano spostati fuori dalle scuole per consentire agli studenti di andare comunque e non stare il lunedì a casa sarebbe ora sarebbe siamo uno dei pochi paesi al mondo che mette i seggi nelle scuole appunto si dice che è stato approvato l'ordine del giorno che chiede di iniziare un percorso infatti lui dice non sarà facile perché bisogna identificare i luoghi adatti in cui spostare i seggi viene identificato almeno un luogo per municipio quindi si parterà come al solito quella cosa ci sarà quella situazione di test in cui si verrà presa una scuola per municipio un po' come per le piazze no? cos'è che è? si si una roba per municipio che verrà fatta poi al prossimo giro non viene più fatta quindi la gente non sapeva dove andare a votare come al solito speriamo che venga fatta un po' meglio c'è la strada in salita ma noi ce la metteremo infatti sono un'ottima idea mi sembra è difficile trovare perché effettivamente per ogni municipio sono 180.000 persone che devono andare a votare perché vuol dire faccio un luogo devi farne tanti devi fare tanti seggi poi i seggi le case ovviamente non è che uno deve prendere la metropolitana e andare a votare comunque dai Poletti Poletti ci racconta il suo lavoro è lunedì quindi Filippo Poletti buon lavoro ci dà le notizie della settimana e le tre parole della settimana e sentiamo quali sono appunto questa settimana le tre parole del buon lavoro di Filippo Poletti buon lavoro a tutti la prima parola della settimana è 1000 euro chi trova un collega trova una sorpresa è l'annuncio fatto da Autoguidovie che ha invitato i propri dipendenti a segnalare dei professionisti dall'esterno nel caso in cui il professionista verrà assunto ecco che al dipendente sarà dato un credito in welfare di 1000 euro è il reclutamento attraverso quello che si dice il passaparola fa bene all'azienda e ingaggia i dipendenti la seconda parola chiave della settimana è azzera bollette 2700 euro di premio per i dipendenti del gruppo Prada questo premio permetterà ai dipendenti di azzerare le bollette pagate nel 2023 dunque lieto fine d'anno per i 4000 collaboratori che operano in Italia del gruppo Prada che come sappiamo è nato proprio a Milano 110 anni fa 1913 la terza e ultima parola chiave della settimana è pausa pranzo e se l'azienda la nostra azienda ci desse la possibilità di trascorrere la pausa pranzo al castello sforzesco piuttosto che al pol di pezzoli l'idea arriva da uno studio pubblicato in Inghilterra da due ricercatrici secondo questo studio pensate un po' mezz'ora d'arte riduce lo stress accumulato in cinque ore d'ufficio dunque a Milano ci sono tanti splendidi luoghi d'arte e allora perché non permettere ai propri dipendenti di passare mezz'ora in questi splendidi musei chissà che a questa domanda questa nostra domanda rispondano in tante 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 tantissime aziende milanesi buon lavoro a tutti wild boys duran duran bentornati bellissimo bellissimo inno dei paninari era questo wild boys penso che c'era una rivista che si chiamava wild boys sai che lo so mi sa eh sì sì è perché mi parla di grande fan figlio di un paninario no quelle robe lì non so nulla so solamente che c'era che chiaramente grande fan di duran duran e soprattutto questa canzone mi ricorda mi ricorda le serate in critical perché è maurone della critical ossia colui che si presenta con dietro una cassa non so quanti lat con una bicicletta elettrica potentissima che scalerebbe qualsiasi cosa pompa a palla due canzoni fisse che sono maledetta primavera wild boys e poi per cambiare la lista però poi le due lì sono ah e poi il ragazzo della via gluck ah bene bene quindi salutiamo maurone maurone della critical mass va bene buongiorno a mauro della critical mass maurone maurone non sono così intimo posso chiamarlo maurone anche se non sono perché non credo di averci mai parlato cioè non credo che abbia un nome no io non credo che lui parli perché non ci ho mai parlato e l'ho fatto per un po' di tempo ma magari sicuramente l'hai visto anche te quindi personaggi mitologici e dove trovarli la critical mass ah in critical ne trovi quanti ne vuoi i personaggi mitologici giovedì sera piazza mercanti quando sono venuti qua Ilaria Fiorillo di Milano in bicicletta e Tommaso Goisis di un'altra associazione che ha a che fare con Milano 30 all'ora e le biciclette me lo sono trovato con il megafono in critical tipo la settimana dopo che inveiva e attaccava adesivi contro le macchine posteggiate male davanti anche a un noto locale a una nota gintoneria milanese in zona centrale con macchinoni da mezzo milione di euro e uno anche da 900 mila euro fuori parcheggiate così alla rinfusa dicendo Barboni Barboni mi ricordo che Tommaso Goisis con il megafono ha detto davanti alla gintoneria avete macchine da mezzo milione non pagate il parcheggio non poveri Barboni pezzenti sì ma veramente una roba del genere poveracci sì sì Tommaso questo non 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 Maurone no no a Maurone non parla a Maurone non parla mette la musica lascia che sia la musica a parlare per sé e prende un po' di richieste ma poi fa un po' lui ah poi tu puoi anche pesargli un attimo verso di lui mi metti su quella che fa na 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 e lui va avanti magari un po' più specifico ok sono queste le richieste che si fanno al DJ di solito perché se la sai la sai ma invece no scusa DJ metti quella bella che c'è adesso che ballano tutti quella non la metterebbe qual è stai un carriere da DJ alle spalle quindi so benissimo tutte queste cose Maurone ti ha scritto no visto che hai trovato un messaggio non è Maurone non è Maurone però ha a che fare con quello che stavo dicendo ah ecco 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 va bene quindi ma ci va ancora in critica al massimo ogni tanto adesso non più quest'anno purtroppo ne ho fatte poche ne ho fatte un paio a maggio se non sbaglio ok e poi basta perché non c'è più c'è più di fila adesso tutti in compagnia lavorano e quindi sostanzialmente ero io l'unico nulla facente quindi adesso invece effettivamente come facciamo poi averti qua alle 7 del mattino vispo e allegro se mi fai la nottata in bicicletta in giro col Maurone a mettere la musica adesso fa anche freddo beh che la critica al massimo ricordiamo c'è sempre tutti i giovedì pioggia neve grandine e poi adesso è bello perché in piazza mercante tombini che saltano hanno riqualificato piazza mercanti e quindi c'è anche un bel ritrovo che prima era sostanzialmente racchiuso dentro i cantieri hai visto va bene 33178 53555 pinguini tattici nucleari rubami la notte che bello vabbè fa niente per fortuna se volete vedere le facce che fa Lorenzo Mazzini quando partono certi tipi non puoi dire ma non si può dire che non ti piace la musica che programmiamo no ma stai scherzando io no no ma anche i pinguini tattici nucleari ieri ho cantato squarcio a gola una canzone di pinguini tattici nucleari in macchina perché eri ubriaco? no no ma anche in ubriaco non si va no infatti no ma è perché proprio mi piaceva io lo dico i kikomori dei pinguini tattici nucleari a me fa impazzire hanno fatto la canzone si chiamano i kikomori si ok molto molto la conosce nessuno solo tu la conosci no sicuramente no vabbè aspetta guarda la regina no ecco infatti ed è pure parente in mezzo c'è nel senso in Bergamo infatti siamo guardati verso la regia perché le nostre rene viene da Bergamo ma ha detto che non la conosce sono conosciuti cioè sono roba sono roba vostra cioè dopo il pot alla polenta avete esportato i pinguini giusto? e Giorgio Gori e Giorgio Gori non so se Giorgio Gori sei contento di essere accostato alla polenta al pota e ai pinguini tattici beh la figlia di Giorgio Gori che è una un artiste cioè una cantante ma è figlia della parodia anche? si ah ok che si chiama Chiamami Faro tutto attaccato ok è chiaramente di Bergamo anche lei si e ha aperto il concerto dei pinguini tattici nucleari sono molto amici Gori è molto amico con Zanotti mi pare che si chiami il cantante ma secondo te io so come si chiama il cantante adesso va bene tutto possiamo tornare un attimo va bene ok scusami allora primo weekend vabbè innanzitutto primo weekend del villaggio Natalizio in Porta Venezia e quanto sei contento di questo? tanto ma non abbastanza perché al momento è l'unico ah ma ne arriveranno vabbè ci sarà ci sarà quello a sesto dentro il caro ponte a pagamento bellissimo sarà no non lo so penso di sì spero di sì non ci l'hai? no considerato quanto costa il biglietto di ingresso lo spero perché quanto costa? nel weekend 21 euro 21 euro per un villaggio ma ci saranno delle attrazioni non è che vado lì per spendere altri soldi non è che vado 21 euro per andare a spendere altri soldi dentro? non so che tipo di attrazioni può avere un villaggio Natale la giostra di Babbo Natale invece del Bruco Mela il Bruco Renna cioè non lo so il Bruco Renna cioè non lo so una cosa del genere non lo so vabbè ci sarà quello ci sarà al Mico la slitta volante al posto del tappeto volante non so una cosa del genere al Mico la Ghirlanda in culo invece del calcio in culo cioè non lo so una cosa del genere no è lì alla fiera l'Allianz Mico che non si può dire più fiera l'Otto City infatti da un giorno con l'altro ha cambiato il nome così alianz Mico ci sarà un villaggio natalizio allestito all'interno con le cubiste eccetera con le cubiste con le piste di patinaggio eccetera ma soprattutto è stato anche il primo weekend dell'apertura del Merlata Bloom ooooh disagi nel traffico incredibili si vedono foto in giro il nuovo centro commerciale fa acqua da tutte le parti adesso sto leggendo Milano Today ma non è l'unico tutte le parti dal punto di vista della mobilità quartiere paralizzato e auto in divieto di sosta saranno contenti quelli che hanno speso 300 milioni per comparsi una casa in un posto che era tranquillo bello e tutto tutti i weekend sarà zuppato di auto infatti ricordiamo il posto di Giulia Pelucchi è andato a recuperare presidente municipio 8 che appunto solleva il tema della mobilità dicendo che era già stato sollevato in passato ma che sostanzialmente sembra che non si sia fatto granché e infatti il primo weekend è stata un po' la cartina torna sole del fatto che evidentemente dei problemi di mobilità ci sono io poi posso fare una domanda a chi è andato nel senso apri un centro commerciale che si deduca non chiuda dopo domani se l'avete aperto qualche anno rimarrà aperto ok perché bisogna andare tutti di corsa al primo weekend cosa ti regalo niente black friday avevamo capito ma c'è ancora la settimana cioè apri col black friday non è che te la roba te la regalano ma poi se il black friday c'è lì ci sarà anche in quello che c'è a due chilometri più avanti al bonola che è dietro al portello che è tre chilometri più indietro dall'altra parte cioè ripeto dicessero ragazzi primo weekend chiunque viene al merlato a bloom gli regaliamo tutto quello che compra capisco che allora c'è tutto il mondo che va lì ma forse una maglietta ti danno forse buona maglietta comunque ricordiamo sempre che di bloom per me ce n'è solo uno quello di mezzago anzi li saluto perché hanno ricondiviso la nostra storia dove parlavamo proprio del bloom di mezzago quindi li salutiamo e chissà che magari un giorno riuscirò anche a tornare perché insomma sono sempre molto interessanti le cose le manifestazioni i concerti che fanno il bloom di mezzago ma poi io che sono un vecchio dentro e anche fuori non solo dentro come Lorenzo Masieri ma anche fuori poi non ci vado invece no bisogna andarci perché la grande musica del mondo è passata dal bloom di mezzago la grande musica internazionale è passata dal bloom di mezzago li sono stati un paio di volte non di più però ho grandi ben ricordi e sempre che che ha a che fare con il merlata bloom sottolineiamo che purtroppo ieri c'è stato un incidente si è verificato un incidente sul lavoro un operaio di 59 anni è caduto appunto ieri verso le 9.30 di mattina mentre cambiava una lampadina al merlata bloom se non sbaglio è il secondo incidente sul lavoro delle settimane recenti ecco quindi sottolineiamo anche questo oltre chiaramente al traffico in tilt il postage eccetera anche queste che sono cose inizio in salita per il merlata bloom non so se al bloom di mezzago abbia mai suonato ma sicuramente gli anni erano quelli quando Max Pezzali cantava appunto gli anni 8.23 Crystal Radio Good Morning Milano How are you coming Honey how are you coming Maneskin alle 8.32 inizia l'ultima mezz'ora grazie della vostra compagnia e grazie anche dei whatsapp che ci scrivete al 331 7853555 prima sai che ho messo l'oggetto quei di MCM ringrazio Luigi che dice sono tornato dietro di 30 anni e dico Luigi forse anche 40 mi sa forse anche 40 ahimè perché credo sia degli anni inizi anni 90 quindi proprio siamo ben ben lontani ormai con MC Hammer avevi le spalline devi mettere su quando metti MC Hammer e poi cerco perché non so veramente sì 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 ah no vabbè mito degli anni 90 anzi fino a 80 anni 90 prego Masieri sottoliniamo che nel weekend ci sono tenute altre due manifestazioni sì una davanti al piccolo teatro sabato mattina una flash mob contro l'anonima per dare il benvenuto a Geronimo la russa figlio del presidente del senato Ignazio la russa si chiamava welcome si chiamavano che è stato appunto nominato nel CDA del teatro non l'hanno presa bene no non l'hanno presa bene infatti sabato mattina centinaia di persone leggo il corriere Milano si sono radunate davanti alla sede del teatro piccolo di Milano per un flash mob organizzato appunto dalla sezione ANPI Audrey Hepburn ok esiste una sezione ANPI dedicata sì ma sai perché adesso dovremmo chiedere alla nostra Marilena che è una molto fan di Audrey e sa tutto sulla sua vita tant'è che in un viaggio che abbiamo fatto insieme siamo andati in Svizzera sulla tomba di Audrey Hepburn trovate in un posto bellissimo sul lago di Ginevra ma credo che abbia una storia legata un po' alla resistenza all'antifascismo antinazismo lei adesso non mi sovviene perché ma c'era una storia legata sì in qualche maniera ma tu sai che sabato mattina appunto questo piccolo flash mob no questo flash mob anzi davanti al piccolo davanti al piccolo questo grande flash mob davanti al piccolo davanti al piccolo la seconda manifestazione invece sempre sabato corteo pro Palestina sesto corteo a Milano pro Palestina adesso sto leggendo la Repubblica Milano che mettono subito in chiaro all'inizio non siamo antisemiti gli ebrei contro Netanyahu sono i benvenuti eccetera quindi mettono sostanzialmente a tacere tutte quelle voci sul fatto che ogni manifestazione pro Palestina che poi più che pro Palestina ormai sono quasi contro Netanyahu cioè nel senso è neanche giusto dire contro Israele in sé nel senso cioè sono contro la politica aggressiva dello stato di Israele ma non contro questa volta lo diciamo ancora prima lo dicono prima di partire appunto si legge non siamo antisemiti non abbiamo nulla contro gli ebrei anzi gli ebrei che vogliono manifestare con noi contro Benjamin Netanyahu sono i benvenuti in questo corteo è partito alle 15 da l'8 a Maciacchini quindi attraversando Cavalca via Serra sabato questo Cavalca via Serra che sta diventando un po' la nuova passerella delle manifestazioni milanesi perché insomma due nell'arco di un poche settimane è già che strano per un'arteria così infatti però effettivamente però fa scena quindi può funzionare bene è anche vero che penso sia la parte urbana più ad alta velocità di Milano sì mi auguro se fossero chiuso il traffico eh no appunto per quello dico magari in zone dove ogni tanto si incontra anche qualcosa di pedonale forse è anche un po' meglio sì sì c'è da dire che in centro è quasi impossibile mai fare più manifestazioni perché tutti i sabati e tutte le domeniche ci sono manifestazioni eh sì beh ogni tre per due ricordiamo che qualche settimana fa c'è stata la manifestazione in contemporanea mettiamola giù in soldoni pro israele pro palestina a distanza di un chilometro eh infatti infatti forse è meglio allontanarle a volte queste situazioni andiamo invece adesso con i Foo Fighters Hello Dice Young Foo Fighters welcome back to Good Morning Milano bentornati a Good Morning Milano bentornati su Crystal Radio 96.2 FM da Plus applicazione di iOS e Android sito internet e poi anche milano allnews.it dove potete rivedere il nostro YouTube il nostro Twitch potete poi riascoltare e rivedere tutto quello che succede qui nelle nostre mattine compreso il buongiorno il buon lavoro di oggi di Filippo Poletti che ci racconta di lavoro e tutte e tutte le settimane appunto ci dà qualche notiziola interessante sul lavoro invece ci dà tante 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 altre notizie Lorenzo Maseri dai giornali quotidiani eh sì chiudiamo sostanzialmente la rassegna delle manifestazioni che si sono tenute nel weekend segnalando che ieri a Milano si è tenuto il corteo Trans Live Matter organizzato da Cioetta Associazione per la Cultura e l'Etica Transgenere che si aggiunge appunto a tutte le manifestazioni che ci sono state nel weekend giusto così per par condizioni diciamo tutte questo è bello lunedì mattina bisogna sapere se puoi fare la rassegna delle manifestazioni e le corse non ci sono state corse non ci sono state corse non ci sono state corse ormai basta non le fanno più perché è proprio brutto tempo in realtà so che quando c'è questo clima qui è che non è migliore per allenarsi se tu corri perché non fa caldo no ma poi non fa caldo infatti le corse campestre ad esempio vengono fatte nel tardo autunno o proprio a primavera ma neanche fine dell'inverno di solito appena inizia tipo io per esempio un roba totalmente personale ho voglia di andare in giro a fare un bel proprio giro in bici quando c'è freddo sì ma c'è il sole sì perché è una roba che mi manda tipo marzo con un marzo frescolino che però ti dici che bello e poi dopo puoi andare dove vuoi continuiamo adesso la notizia è un po' flash l'altro ieri quindi sabato è stato eletto Carmine Paciente consigliere comunale di Milano segretario di azione della città metropolitana di Milano abbiamo dato la notizia di Cappelli quindi di Cappelli oddio Cappelli 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 del PD quindi giusto dire anche che Carmine Paciente consigliere del comune di Milano è il nuovo segretario di azione della città metropolitana di Milano di Milano segnaliamo anche altra notizia flash il camper dell'ascolto sportello psicologico itinerante in iniziativa del municipio 8 che 4 giorni al mese offre gratuitamente supporto mentale a chi ne fa richiesta municipio ho detto 8 quindi Giulia Pelucchi era uno di quelle cose che erano danni che voleva il presidente Pelucchi mettere in piedi e mettere in complimento è bello quando alcune promesse poi vengono mantenute devo dire che insomma è sempre bello vedere che i politici ci promettono delle cose anche su richiesta magari dei cittadini che dicono sai ci piacerebbe avere questo quest'altro servirebbe sappiamo quanto è importante il tema sulla salute mentale e per fortuna arriva appunto il camper dell'ascolto cioè politici non locali iperlocali iperlocali che fanno quello che promettono forse proprio quello forse proprio quello il tema forse proprio quello il tema proprio perché sono iperlocali riescono a fare potessero fare di più magari magari sono grande quindi nel manifesto politico quindi aggiungiamo capitolo il manifesto politico di Lorenzo Masieri in una città come Milano se lo diciamo sempre ripeto io non sapevo questa cosa Walter Cherubini che domani ritroveremo ha detto non c'è neanche perché l'ha detto lui il municipio 9 il più popoloso municipio 2 il meno e comunque grande quanto il comune di Brescia special needs dei Plasibo ti piace questa so che quando l'hai vista in programmazione ho detto ah quella mi piace non vuol dire che le altre non mi piacciono caro ufficio programmazione di Cristal c'era un non detto un non scritto assolutamente però il Plasibo è tanta tanta roba rubami la notte cantano è andato a rivedere quando sono esibiti a Sanremo che hanno fischiato te la sai quella roba lì e poco ti ricordo i Plasibo li conoscono di fama di nome faccio ma non li faccio non neanche ma non ne ho mai sentiti più di tanto cioè non so mi manca proprio mi manca non è perché strano sono roba della mia epoca tra parentesi mi manca proprio quel pezzo lì tra parentesi abbiamo visto adesso poco fa quanti 17 album pubblicati quanti erano Angelo gli album pubblicati del Plasibo che abbiamo visto poco fa mentre chiacchieravamo stiamo chiedendo il regia 19 19 19 album pubblicati insomma si però insomma non è che sono tu quanti album hai pubblicato tu e allora stai zitto 0 scherzo scherzo anche perché chi masterizza più nel 2020 anche se volessi non saprei più come fare ho trovato dei cd vergini ancora chiusi la settimana scorsa li ho bellamente buttati nei pattumini non so cosa far sinceramente hanno venuto metterli in macchina contro i quiccioni no contro gli autovelox sai che c'è la gente che ha questa leggenda metropolitana completamente assurda inutile che se ti incolli due cd dietro la macchina l'autovelox non ti fa la foto non vede la tagga che non è per niente vero e anzi ti sta bene anzi se ti vedono che c'è quella roba lì ti hanno la multa doppia e ti sta bene perché come fai cioè veramente pensa che io vorrei comprare un disco orario automatico che è legale è legale cioè solamente un tipo di disco orario automatico che nel momento in cui si ferma la macchina si ferma non è che poi va avanti e fai il furbetto no però il famoso disco orario solare che chiedeva Max Pezzalin con un decca manca il problema è che non ho paura ho paura come direbbe Antonio Conte ho paura che non che ci passi qualcuno che lo veda e mi dà la multa perché pensa che sia una roba da furbi invece no è legale ce n'è solo uno però vabbè questa non la sapevo c'è il Black Friday magari è in sconto lo stavo guardando su Amazon l'unico problema è che ho paura è legale legale non è che il vigilo bar non lo sa ho capito poi la devi andare a contestare eccetera ma lo sapranno scusa anche quelli della sosta sapranno che quella roba è legale non è che dicono il signore si è messo un display io fossi un vigile darei la multa uno che ha uno schermettino con scritto il numero ma perché ma sì ma sì ma come deve essere la multa perché sono arrabbiato perché sono arrabbiato capito ma è meno male che non fai il vigilo urbano che sono cinico sono acido è meno male che non fai il vigilo urbano allora perché insomma lo sapranno se ce n'è solo uno molto probabilmente perché è l'unico che hai i crismi di legge che deve avere quello sicuramente quello sicuramente vabbè non so perché non ci siamo messi a parlare di questa cosa io non sapevo neanche dell'esistenza non sapevo dell'esistenza del disco orario automatico sì in pausa ti faccio vedere cioè quello quando spegni la macchina inizia a contare dice un'ora due ore no un'ora due ore dall'orario d'arrivo ah dall'orario d'arrivo sì giusto senza avere il problema di ok quindi sostanzialmente e si riazzera se io riaccendo la macchina e parto esatto esatto e iniziano ad andare normalmente poi mi rifermo e lui va ma domanda ma dov'è che posteggia la macchina che serve il disco orario non ci sono più posti dove serve il disco orario qualche volta che a carriere ho parcheggiato un secondo a Canso a Canso mi pare di aver visto che ci sia ma poi di solito l'oretta gratuita in qualche ma dove a Milano ho metto linee blu quindi magari c'è l'oretta gratuita di solito di solito di solito di solito di solito di solito di solito